Amici avete presente quando vi dico questo video è impossibile, beh signori questo video è veramente impossibile Sarà difficilissimo come avrete letto oppure come vi sto per dire adesso Se cambiano le coordinate Y su Minecraft il video finisce Per chi non sapesse cosa sono le coordinate Y sono quelle che ti dicono Hey non puoi né salire di un blocco né scendere di un blocco Quindi sempre dritti per la propria strada e neanche a destra e a sinistra ovviamente Me l'avevo dato troppo per scontato Quindi signori vi invito a lasciare un mi piace, commento, condividere il video, fare tutte le cose E iniziamo Signori ci troviamo nella creazione del mondo e fortunatamente lo vedremo solo una volta per questa partita E lo chiamiamo No Y Bro Ok un mondo un po' fantasioso che è incredibile, assurdo Lo mettiamo in sopravvivenza, difficoltà Difficile Cassa bonus e direi di iniziare Sì appunto dal punto dove iniziamo poi non potremo cambiare più strada Ora io sto incrociando le mani a mo' di preghiera perché spero vivamente Di iniziare in un posto buono No e se iniziassi nell'acqua Oddio ho un po' paura Devo ammettere che ho un po' paura Non nell'acqua ti prego Grazie Ok quindi attivo le coordinate Oh c'è anche un villaggio No c'è un villaggio non possiamo esplorarlo Porca l'orca Allora Attivo le coordinate Appunto così vediamo tutti che non cambio la cosa Sotto sento degli zombie da iron con bel bioma Signore Quindi andiamo su gioco e andiamo in mostra coordinate Così io metterò la facecam dalla parte opposta Quindi le coordinate Y sono 67 E non possiamo muoverci dal 67 Ora mi prendo relativamente tutto Mi avete detto di rompere la cesta per prendere il tutto Vero È una cosa da fare assolutamente Però non in questo caso perché Tanto non ci serve più di tanto E appunto ce ne dobbiamo andare di qua Tipo in questi casi non posso Come si dice Scendere di un gradino Quindi è già un problemone Perché io me ne voglio stare qui Ma voglio prendere la terra Ti prego dammi la terra grazie Quindi sono costrettissimamente costretto A farmare la terra Che dire farmare la terra È un po' un controsenso Però siamo costretti Tra l'altro bellissimo Eravamo spunati in un posto talmente bello Però io devo fare la challenge sbagliata Ecco Oh eravamo spunati in un posto bellissimo Sentivo gli zombie Sentivo il villaggio O meglio vedevo più che sentivo il villaggio Però no No master Fai la challenge sbagliata nel momento sbagliato Bene Perfetto Ora Prima di tutto Mi voglio craftare una craft table No ho sbagliato Vabbè Ok Stiamo sbagliando un po' troppo Pollo Vieni qua Pollo Allora aspetta Fatemi prendere tutto Dai dammi tutto ti prego Pollo no Non ho la darte nel pollettino Io non mi posso muovere È la mia prigione Pollo Oh ho un'idea Vieni pollo Vieni c'è Sì Vieni Vieni nelle mie brame Vieni nelle mie brame Pollettino Dicevamo Mi voglio craftare una pale E una Di quest Signore Una pale Una pale E ora Con la poca terra Che abbiamo farmato Dobbiamo Costruirci sempre qua avanti Sarà straziante Sì Sarà difficilissimo Sì Sarà impossibile Arrivare tipo solo lì Sì Sarà impossibile Che obiettivo ci diamo Allora Voglio darmi un obiettivo Del tipo Non lo so Ci penso Ci penso Ok signori Vi ho tagliato chiaramente il pezzo E siamo Ho preso altra terra Ora Tra l'altro Stavo mettendo i blocchi in terra Però La terra in terra È difficilissima questa challenge Non ce la farò mai Cioè vedete Già di un blocco Non posso scendere Il 67 Sarà un numero Che ricorderemo Nella storia Nella storia Delle storie E ok Stavo già per morire Cioè morire Sbagliare la challenge Però Però Ciao golem Ciao golem Ciao golem Ciao golem Sto arrivando Sto arrivando Sto arrivando Hey golem Hey golem Sono io Sono io Scrivetemi nei commenti Se avete capito la citazione A che cartone Anzi vi do 4 opzioni Opzione 1 American dead Opzione 2 I simpson Opzione 3 I griffin Opzione 4 Futurama E scrivetemi nei commenti Se qualcuno ha capito la citazione Ciao golem Io sono qui a 67 Non posso muovermi Ciao Ciao No ho paura di picchiarlo Facciamo che non lo picchio Facciamo che non lo picchio Io volevo esplorare qui Però Uffa Vabbè Signori purtroppo Dobbiamo dire addio al villaggio Però c'è un altro pollo Voglio Voglio uccidere anche lui Ehi polletto Ehi polletto Vieni qua Uh salve Si ricorda l'altro pollo Beh De pollo slayer Vieni anche tu Dai 10 10 10 Tata Come divertirsi con poco Tutorial Fallimentare Però pur sempre un tutorial Ora Finiamo il poco di pala che ci rimane Perfetto è stato un piacere E andiamoci davanti Il mio obiettivo è arrivare su quella montagna Sarà un obiettivo lungo Difficile Oh c'è pure un lama Oh ma Sapete che minecraft è un gioco infame Quando io faccio una challenge Stupida Non trovo niente Eeeh Stavo cadendo Quando invece faccio una challenge Difficilissima Trovo il mondo Ma signori Ma stiamo scherziamo? Stiamo scherziamo Hashtag Stiamo scherziamo Abbiamo toccato terra Sì Però mi sa che mi devo fare un'altra pala Sempre di Sempre di legno ovviamente Perché non abbiamo i materiali Tra l'altro vorrei trovarla della cobblestone Però Però niente Sian tre piccoli porcellin Sia Tra l'altro facciamo un po' di chiacchiere Intanto che costruiamo Un just chatting Me contro te Cioè Me contro te Me e te Chi di voi guarda me contro te? Ecco iniziamo a dire just chatting Sono curioso di vedere Quanti di voi guardano i me contro te Sono proprio curioso Nel frattempo io mi Prendo un po' di terra E tra l'altro Volevo chiedervi Come vi andava la quarantena Signori Come la state passando questa quarantena? Però Se non mi fai prendere i blocchi Io la passo un po' male Vabbè Non li prenderemo mai Eh? Dicevo Come la state passando? Perché siamo tutti in caso Ormai si è fatto fine aprile Quasi E E' lunga E' stata lunga Non so quanto durerà ancora Non so quanti di voi Possa interessare Intanto stiamo superando Un oceano Circa E non lo so Tipo cosa fate voi Vi ammazzate di serie tv Eh? Eh beh Sì Lo capisco Lo capisco Stavo per fare una cazzata Stavo per fare una cazzata totale Master scappa Sì ma ora come la farmo la terra Se non me lo fa prendere Dai fammi prendere questa terricciuola Bravo Dai gioco Ma ciao golem Gli do una sverla Così? Gli do Eh signori Sotto Scappa 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 Beh che dire Però Siamo rinati Alla 67 Ok Siamo rinati Siamo rinati al 67 Ok Signori Tra l'altro qua c'è un tempio Bellissimo Bellissimo Non l'avevo notato Vabbè Però diciamo che al momento Perché ho picchiato il golem Perché ho deciso di fare una cosa del genere Allora gattino Allora gattino come la va Tutto bene? Come si trova lei? Ciao gattino Ma come si addomesticano i gattini? Non lo sapremo mai Dov'è la mia roba? Uh piccone Perfetto No Siamo fottuti Siamo fottuti Dai Ora io come faccio? Non c'ho più neanche la pala Praticamente Non mi fa neanche più prendere niente No signori Questo dite che me lo fa prendere Dai Sta finendo in tragedia Ma perché ho deciso di picchiare il golem? Però Però abbiamo uno di legno Dai fammeli prendere Allora ci ha messo un quarto d'ora Però ho farmato la terra Preoddio Oddio Golem dai Vieni ad uccidermi va Golem Ah ci sono anche i mostri No Eh voi ora come ci salite qua? Papap Papap Però Non potete No 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 Grazie a tutti.